Negli ultimi tempi sono stati numerosi gli atti vandalici commessi da incivili nella città di Teramo, una situazione che sta preoccupando soprattutto i cittadini del centro città. Una circostanza su cui l'assessore alle manutenzioni Valdo di Bonaventura da tempo sta cercando di contrastare il triste fenomeno, infatti sono state diverse le denunce fatte negli ultimi mesi e ultima in ordine di tempo registrata questa mattina. Purtroppo sta diventando un problema di tutti i giorni, tutte le notti, e quindi si sono verificati ultimamente ripetuti atti vandalici nelle ore notturne e quindi questa mattina abbiamo esposto le denunce ai carabinieri, io e l'assessore De Padova insieme all'ingegnere Manetta, per segnalare ripetuti episodi che si verificano nelle ore notturne. Una città nelle ore notturne diventa terra di nessuno, dico che dobbiamo in qualche modo attivarci, sensibilizzare anche le famiglie, una maggiore attenzione sui loro figli e poi chiederò un tavolo istituzionale, perché visto che con un protocollo di indesa era stato attivato mille occhi sulla città nel 2011 o 2012, se lo ricordo bene, probabilmente poi quel protocollo di indesa che prevedeva una collaborazione massima di controllo del territorio da parte dei carabinieri, della polizia, degli istituti di vigilanza della polizia municipale, di un controllo notturno che poi probabilmente a questo protocollo non si è dato mai un seguito effettivo, quindi di riattivare quel protocollo, di dare un seguito e di cercare di dare massima attenzione a questa problematica, perché la città non può essere tra nessuno, dobbiamo riducare l'attenzione alla bellezza della nostra città. Un controllo notturno che potrà essere fatto anche dai cittadini stessi? Ma questo, guarda, tanti cittadini chiedono di poter essere attendi loro, magari, però questo va verificato con le forze dell'ordine prima di attivare qualsiasi tipo di procedure di questo tipo. Bisogna vedere che sulle forze dell'ordine questo tipo di volontariato può essere attivato o meno, perché andiamo a toccare questioni particolarmente sensibili, quindi diciamo che potrebbe essere un'idea o un'opportunità in più di controllo, però questo va verificato con le forze dell'ordine, se è possibile.